Ascolta, lo senti, è un suono antico, una suggestione primordiale. Seguila e scoprirai un mondo dal fascino arcano. Guarda, la vedi? È una foresta vetusta, ultimo baluardo di una natura intoccata. Ecosistema soggetto alle sole leggi naturali. Libere espressione di processi non imbrigliati dall'uomo, dove gli alberi invecchiano, si seccano, muoiono. Immagina l'insieme. Lo cogli. Intorno a te c'è una comunità palpitante, viva, integrata, dove ogni specie è in relazione con le altre, con il tutto. Gli animali abitano le cavità dei grandi fusti. I muschi avvolgono le cortecce. I licheni ricoprono le superfici. Il legno morto si decompone per rinnovare e rigenerare la foresta. In un ciclo perpetuo che attraversa le stagioni, i decenni, i secoli. Ammira questi faggi. Simbolo delle montagne europee. Alberi plurisecolari che vivono da oltre 500 anni. Patriarchi che ci permettono di conoscere il passato e di guardare al futuro. Sono i custodi insostituibili di una biodiversità unica che tutti noi siamo chiamati a proteggere. Antiche faggete primordiali d'Europa. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.